Non siamo più abituati a storie come questa ed ecco che quando si verificano fanno notizia. È ciò che è accaduto a Roma a Luca Moriconi, giornalista di Renews24, che ha raccontato in un post su Facebook. Federico il protagonista, un operaio moldavo che fa traslochi e piccole riparazioni. Su internet cerca il proprietario del portafoglio che ha trovato in via di Sant'Agnese mentre sta lavorando. Ha già provato a cercarlo tra i cognomi dei campanelli dei palazzi, ma in vano. Così trova il telefono di casa, lo chiama e gli dice, c'è tutto, anche i soldi, viene a prenderlo. All'incontro, il giorno di Pasqua, verifica che il giornalista sia veramente il proprietario del portafoglio chiedendogli anche la data di nascita. Lui contraccambia con una colomba artigianale, vuole dargli anche una mancia, ma l'operaio moldavo rifiuta e dice, no, tienimi però presente se devi fare qualche trasloco, mi piace lavorare. Un racconto che rovescia tanti pregiudizi e con la voglia di tornare a vivere storie come questa, di straordinaria normalità.